State constatando la vivacità di questo evento, sono tutti al lavoro cercando di vendere in modo adeguato la Puglia. Sappiate ovviamente che quando si vendono pacchetti turistici si vende l'insieme della regione, i suoi servizi, la sua ospitalità, la sua civiltà. E quindi ribadisco ovviamente che il turismo non è un affare solo degli operatori turistici ma di tutti i pugliesi che devono fare in modo che le persone che ospitiamo si sentano soddisfatte, accolte e siano ovviamente in grado di valutare, di tornare. Perché il nostro non è un turismo mordi e fuggi, non abbiamo come le città d'arte da mostrare il Colosseo che una volta che l'hai visto una volta, onestamente è difficile che ci torni due volte. Da noi la gente deve godere del benessere e della qualità della vita della Puglia e lo deve fare per tutta la vita possibilmente. La Puglia evidenzia un profilo d'immagine decisamente positivo e soddisfacente sui turisti attuali e su coloro che potrebbero sceglierla come meta di vacanza. L'analisi svolta sulla scelta della Puglia come destinazione turistica mostra i punti di forza della regione rispetto a quelli che sono definiti driver, ossia aspetti determinanti nel processo di scelta del luogo di vacanza. La Puglia dunque vincente per bellezze naturali e località di mare, cucina, clima, accoglienza della popolazione, prodotti tipici da scoprire e sicurezza. Per altri aspetti che possono essere determinanti nella scelta della destinazione di vacanza, la Puglia evidenzia invece anche alcune debolezze in Italia sul tema dell'affollamento, aspetto che influisce sulle scelte di vacanza in modo latente, ossia meno diretto e consapevole e la Puglia evidenzia una performance meno positiva. Questi sono solo alcuni degli elementi emersi questa mattina nell'ambito dell'incontro, la percezione della Puglia da parte della domanda turistica internazionale, punti di forza e punti di debolezza. Insieme all'assessore Gianfranco Lopane, al direttore generale Aret Puglia Promozione Luca Scandale e al presidente della regione Puglia Michele Migliano è intervenuta anche la ministra al turismo Daniela Santanchè. Ogni cambiamento, come sappiamo tutti, porta con sé dei rischi, ma dobbiamo anche capirne che ne porta delle grandissime opportunità. E pertanto che cos'è che è necessario fare secondo noi? Analizzare, studiarli, comprenderli, per capire come possiamo, come il mondo del turismo può adattarsi per fare che cosa? Per minimizzare quelli che sono indubbiamente rischi, ma massimizzare quelle che invece noi vediamo anche come grandi opportunità.